La chiesa dedicata alla Santissima Immacolata in Cassessilano, piccolo centro ai piedi della Sida, che diede i Natali a Sor Eufrasia Iaconis, fondatrice della Congregazione delle Figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires, proclamata venerabile da Papa Francesco lo scorso 13 maggio 2019, lunedì scorso si è tenuto il primo evento dei concerti natalizi della corale porifonica I Cantori di San Rocco, diretta dal maestro Luigi Quintieri e dalla banda Giuseppe Verdi di Caccuri-Gerenzia, diretta dal maestro Simone Emiliano Pasculli. Con brani del repertorio natalizio e classici, i musicisti hanno intrattenuto per oltre un'ora il vasto pubblico che la chiesa non riusciva a contenere. Un vivo ringraziamento da parte di Don Francesco De Simone, parroco di Cassessilano, ai musicisti e cantori che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento e hanno voluto donare alla comunità gli auguri di un felice anno nuovo attraverso la musica. Altri appuntamenti seguiranno nei prossimi giorni a Caccuri e in altri paesi limitrofi.